Iniziamo un attimo le parole di Tiago Motta che ha rassicurato i tifosi di Bologna parlando di un piccolo fastidio per Joshua Zirkzee, quindi nulla di preoccupante per il talento olandese, però poi si è rivolto anche all'arbitro parlando di un recupero nel quale si è giocato poco, quindi un recupero che secondo lui Paolo doveva essere protratto e soprattutto si è rivolto all'Inter, su ex squadra, parlando di reiterate perdite di tempo. In Inghilterra non sarebbe così, dovremmo prendere spunto dalla Premier. Sì, ha fatto anche poi i complimenti a Inzaghi, ma secondo me anche un po' credo si riferisse ai reperti di tempo, ma in effetti abbiamo visto che l'Inter può essere comprensibile se vuoi, però nel secondo tempo l'Inter ha giocato 11 sottopalla e quando lui parla anche di spettacolo, di divertimento, che hanno il dovere sicuramente se tu giochi così. Cioè l'Inter ha giocato, è stata l'Inter murignano o allegriana, anche se Allegri non c'entra niente con l'Inter, dico che può essere comprensibile nella misura in cui mercoledì è un appuntamento di Champions, che venivi da 10 vittorie di fila e quindi anche con l'idea magari di risparmiare dei giocatori, che poi Pavard e Di Marco in pratica non hanno giocato. E' una sottolineatura che ci sta, però diciamo che mediamente l'Inter è vero quest'anno, sicuramente è per niente sprovveduta, è molto camaleontica e non è la prima partita che fa o pezzo di partita in cui sta dietro. Mi ricordo anche con l'Atalanta, per esempio a Bergamo, nella gara andata, eccetera, ti ricordi. Sceglie di più i tempi. Però forse il fine giustifichi i mezzi, ecco, questo obiettivo di non sbagliare, di arrivare alla seconda stella, oramai è arrivata, il passato, gli scorsi anni, le cadute. No, una cosa che io ho notato e un altro tema, secondo me, a parte questo, è che a differenza della sua storia recente, Simone Inzaghi, sia alla Lazio che all'Inter, fino allo scorso anno, nelle ultime 10-12, nelle fasi finali di campionato, cedeva. Cedeva. E era stata fatta una riflessione anche sul tipo di preparazione atletica. Tra l'altro, quando aveva fatto il rinnovo precedente, Marotta gli aveva chiesto di modificare un po' lo staff. Lui non aveva voluto. Ma guarda Paolo, gliel'ho chiesto alla fine di Intergenoa, proprio questa domanda ho fatto. Mister, ma nei primi due anni l'Inter ha già fatto vedere di giocare bene, ma a febbraio-marzo capitava sempre il caso. Ecco, lo scusa Michi, in taghi, in taghi, lo ascoltiamo in diretta da voi. Quest'anno è cambiato, la testa, mi diceva lui. Prego, qui davanti, Repubblica, poi il terzo mercato e il Corriere della Sera. Buonasera, Ministro. Ciao, buonasera. Complimenti per la partita. Volevo chiedere una cosa che c'entra più con le persone e col calcio. Si è apprezzato il fatto che Nicolò Barella abbia chiesto scusa per l'atteggiamento dopo l'episodio di Colgenoa con Friend Group. Sì, l'ho sentito, è stato bravissimo. Conosciamo tutti Nicolò, al di là del calciatore, è un ragazzo con dei grandissimi valori. È stato bravissimo, a volte anche noi che siamo dentro il campo, a volte per l'adrenalina si può sbagliare, ma è importante rendersene conto. Prego. Buonasera, Ministro. Ciao. È ancora il complano dell'Inter, 116 anni di storia. Tanti allenatori sono entrati nella storia di questa Inter. Vorrei chiederle, alla fine di quest'anno calcistico, tra i vari allenatori che hanno fatto questa storia, hanno contribuito a scrivere questa storia. Murigno, Trapattoni, Conte, tanti altri. Adesso c'è anche Inzaghi, lo possiamo già dire. Ma insomma, questo ci siete voi per dirlo. Io sono contento perché abbiamo onorato al meglio il complano dell'Inter. È una partita a cui tenevamo tantissimo, preparata in quattro giorni con una grandissima intelligenza, perché non era semplice. A parere mio abbiamo fatto un primo tempo straordinario, dove chiaramente abbiamo meritato il vantaggio. Poi nel secondo tempo è cresciuto il Bologna, che ha dimostrato ancora una volta che merita la classifica che ha, l'ottimo allenatore che ha. Abbiamo sofferto tutti insieme, di squadra, una vittoria per noi importantissima, che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici, sapendo che ne manca una o meno alla fine. Prego. Ciao Simone. Ciao. Ho verificato, mi sembra che Lautaro non stava in panchina dal dicembre del 2021, quindi più di due anni. Hai fatto fatica a convincerlo? Beh, chiaramente Lauti avrebbe voluto giocare sempre, ma era uno di quei giocatori che probabilmente aveva bisogno di un turno di riposo completo. Poi chiaramente uno non può, non può qualcosina, noi allenatori pensiamo prima, però ho avuto il ballottaggio fino in ultimo tra Arnauto, Vice e Sanchez, quindi quello che non avrebbe giocato sicuramente sarebbe entrato, potrebbe fare cambio l'ultimo per Lauti, ma probabilmente la tredicesima partita nel 2024, la ventesima in sei giorni, dovremmo fare otto in 27, quindi bisogna ottimizzare le forze per tutti gli atleti. Prego. Ciao Simone. Ciao, sono qui. L'atletico, io non so se pensasse a quello che dovrà succedere mercoledì, ma è caduto a Cadice, credo che tu lo sappia, comincia da un sacco di tempo. No, la mia curiosità è come sei riuscito, perché tutti pensavamo un po' che questa partita potesse risentire, no? Di quella di mercoledì invece, anche dal punto di vista della tenuta mentale nel secondo tempo, mi sembra che sei riuscito a fare i compartimenti stagni. Sì, merito di questi ragazzi che lavorano sempre bene, ma ero abbastanza fiducioso, perché hanno fatto un giovedì-venerdì nel migliore dei modi. Insomma, venivamo dalla partita di lunedì, martedì gli abbiamo dato il day off, sono stati a casa con le famiglie, hanno scaricato un po' e poi da mercoledì hanno cominciato a lavorare nel migliore dei modi. E come ti ho detto prima, abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore che non perdeva dalla prima giornata, dal 18 agosto qui in casa, quindi abbiamo fatto una grande partita da squadra insieme, come piace a me. L'ultima dai mezzo. Ciao Simone, scusa, volevo chiederti un'altra cosa sul bel gesto di Barella. In settimana ne avete parlato di quello che è successo e visto che lui l'ha detto quasi spontaneamente, ti aveva magari manifestato l'idea di comunque parlarne anche pubblicamente dopo questa partita o no? No, personalmente non ne avevamo parlato, ma insomma penso che sia stato apprezzato da tutti quanti, insomma gli fa onore e adesso chiaramente quando lo rivedrò, perché ho visto quello che avevo detto quando stavo venendo qua, chiaramente gli farò i complimenti. Non vedrà protagonista Sabelli. Quando Marcello a Inzaghi viene chiesto, Murigno, Trapattoni, Conte, ora c'è anche lei Inzaghi nella storia degli allenatori dell'Inter, lui non si schernisce, dice sta a voi dirlo, però diciamo che non si chiama fuori dal novro di questi nomi. Chiaramente entra nella storia perché l'Inter raggiungerà la seconda stella, che è comunque un traguardo importante, ci arriva con lui e verrà ricordato proprio per questo, quindi è normale che nella storia ci sarà anche Simone Inzaghi, poi bisognerà vedere quest'anno come finisce tutta la stagione, se va anche in finale di Champions, come si comporta in Champions, sta facendo una grande stagione, forse di là addirittura di tutti i pronostici delle aspettative, bisogna dargliene merito, bisogna dargliene merito, faccio presente, che gol del Monza Marcello, scusami, gol meraviglioso credo di Mota Carvaio, vediamo se è lui, sì, Dani Mota Carvaio in mezza rovesciata, gol stupendo, Genoa 0, Monza 2, da figurina Panini, mamma mia che bello, ma che coordinazione, davvero un gol meraviglioso del numero 47 del Monza, che riceve palla con un cross dalla destra e in sforbiciata, come si diceva una volta, mette dentro il 2-0 del Monza, gran gol del portoghese, non so, Strootman cos'abbia da dire con l'arbitro, sarebbe un peccato annullare un gol simile. Che non c'era il calcio d'angolo dal quale è venuto il gol. Cosa ti avevo detto? Mamma mia, hai favorito il Genoa. Vediamo, vediamo, vediamo. E lo cerca Colpani, colpani lo cerca anche, molto intelligente Colpani, secondo assist per lui. Il gol meraviglioso, gol meraviglioso davvero, quando avrete modo di vederlo capirete perché ci stiamo prendendo tanto bene. Luca, prima Michele diceva, correggimi se sbaglio Michele, che forse questa è una delle Inter, o l'Inter più bella della storia dell'Inter. Si sta esagerando? Te che hai un po' più di memoria. Sì, è sempre molto complicato. Secondo me, io non credo che sia una delle migliori Inter della storia perché non ci sono alcuni degli interpreti delle versioni dell'Inter più forti. Io credo che il fuoriclasse è vero per la continuità che ha raggiunto, quindi lo è diventato, non lo è nato, è Lautaro. Poi ci sono dei campioni intorno. Fuoriclasse nell'Inter, in tutto l'esterno, vedo, c'è una grandissima organizzazione, una forza di squadra, di collettivo. Però, se io penso alla prima Inter che ho visto, che aveva Mazzola, Boninsegna, Jair e altri giocatori come questi, o quella di Trapattone, o altre versioni, anche quella di Bersellini. Aveva dei giocatori come Beccalossi e Altobelli, che erano, secondo me, due fuoriclasse. Beccalossi con tutti i suoi, peccato che non ci sia stasera, con tutti i suoi svolazzi, però, voglio dire, aveva un piede che in quest'Inter non c'è. Che sia una squadra, come probabilmente non era il Napoli più forte della storia di quello dell'anno scorso, nonostante i puntelli, perché, onestamente, quello di Maradona, eccetera, era più grande. Quindi, direi di no, direi di no, direi di no. Il bello è, diciamo, mentre i risultati sono oggettivi, uno dice, l'Inter di Arriere e l'Inter di Murigno hanno vinto la Coppa Campioni, questa qua, per ora, no. E quindi, io sono d'accordo. Ma un conto è, voglio dire, la consistenza, perché l'Olanda è stata la nazionale più forte degli anni 70, ha fatto due finale e non l'ha vinto. No, ma infatti volevo specificare cosa intendevo. Io dico, dal punto, io sono d'accordo, lo sport è una gara, quindi per me, le Inter di Arriere e di Murigno, questa qui, ne deve fare di strada per raggiungerla. Però, se poi parliamo di un fattore, invece, che nel calcio c'è, ed è soggettivo, cioè il piacere, per esempio, Sacchi diceva, il mio orgoglio è aver portato 70.000 abbonati a San Siro. Questa Inter ha 73.000 di media, possono essere vari motivi, ma vi assicuro che si divertono a vedere la partita. E questa cosa della più bella, me lo scrivono interisti, ce l'è anche il Milano. Vedi Michele? E ieri l'ha detto Materazzi, Materazzi ha detto... Fai sold out la Roma, ce l'ha detto Materazzi. No, sulla sua Inter, poteva dire la mia Inter, era più bella. Michele, Michele, vedi, stai un po' cambiando idea, per fortuna, perché nelle nostre discussioni tra giochisti e risultatisti, tu eri molto talebano nel difendere il calcio di Murini e Allegri, perché dice alla fine conta il risultato. No, conta anche coinvolgere la gente, i tifosi, l'ha detto anche Tiago Motta, ma adesso lo stai notando anche tu. No, no, ma io su questo non d'accordo, però una cosa è se per esempio l'Inter di Murino col Barcellona era messa sotto e cercava strategicamente di fare anche una partita difensiva, un'altra è se tu sempre ti chiudi. No, 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 certo, ma dentro una partita ci sta. Ci sta. Questa sera l'Inter si è chiusa. Nel secondo tempo si è chiusa. Però ci sta, ma tu lo guardi globalmente, no? Secondo me molto lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Cioè quest'Inter non ha tanti giocatori che saltano, è ancora terz'ultima in questo particolare, c'è il dribbling, adesso Turam si è aggiunto quest'anno. Ha però un centrocampo che ha da del tuo al pallone, sono tutti centrocampisti che vengono dal numero 10, da trequartista, eccetera, e quindi ha difensori come Pavard e Bastoni che vanno in avanti e sono tecnici, centrocampo che palleggia. Ma come gioca lì, se lo sappiamo, però se il sunto iniziale è la più forte Inter di sempre… No, più forte è più bella da vedere. No, più forte non lo so. Se ruba l'occhio, ruba l'occhio. Secondo me è bella, secondo me è più bella dell'Inter di Murino, anche se Murino ha fatto… Murino di sicuro, ma ce ne sono state delle versioni. Quella di Trapattoni che ha vinto il campionato era una scherza sassi, quella di Murino era comunque una squadra che divertiva, perché poi vinceva le partite, vinceva la compagnia dei campionati, quindi… Io dico solo che il dibattito è legittimo. Anche alcune, un paio di versioni di Mancini, del primo Mancini, giocavano bene. Però ecco, voglio dire, non lo so se… No, no, però io dico solo il fatto che uno non si scandalizza la domanda dalla cifra… È indicativo. È indicativo di una squadra che ha fatto adesso, è arrivata a 70 gol e 13 subiti, C'è una fase in cui in una stagione come questa, come è accaduto anche nella seconda parte del Napoli, in almeno due scudetti della sfilza della Juventus, in cui a un certo punto l'avversario proprio non scende. Cioè, oramai questi, quando hai 20 punti ci sono gli avversari che interpretano le partite in maniera molto diversa. Non ho parlato del Bologna, non ho parlato del Bologna, dico in generale, sì. L'Atalanta dopo 25 minuti a parte gli episodi… E quindi… Però, al di là di questo, cioè, la classifica dei campioni si può anche… Il gioco che si fa sempre… Oggi ne ho sentita una molto divertente sul fatto che Cacca, Ronaldinho e Maldini non fossero dei fenomeni. Ah, è vero? Ma l'ho letta prima… Chiunque… No, 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 non è un altro rimittente, un altro collega, non c'è… Sì, l'ho letta di strisci. Però si leggono… Ah, ok, ok, ci sono arrivati. Si sentono. E quindi è molto soggettivo, addirittura arrivare a dire che è la più divertente, onestamente non lo so. Onestamente non lo so. Però tu Luca, che sei pure uno storico, noi mi ricordo una volta abbiamo fatto proprio qua un gioco sugli allenatori migliori della storia del Milan e della storia dell'Inter. Gli allenatori della storia dell'Inter sono sempre stati caratterizzati per essere dei condottieri. Il collega nella conferenza parlava di Conte, Murigno, ma tu hai aggiunto Bersellini. Trapattoni. Eh, Trapattoni. Mentre il Milan si diceva il gioco, anche Berlusconi spesso diceva il gioco, noi dobbiamo dominare il gioco. Questo è un Inter che diversamente dà la cifra storica, l'Inter è sempre stata, sì giocatori di talento, ma grinta, la difesa solida. Questa invece è un Inter diversa dalla sua storia perché gioca in modo areoso. Sì, però è anche molto cattiva. La difesa solida è l'EA, io parlo, se faccio una somma di talenti… Ma stasera siamo a Inter Channel o a Netflix TV, io sono sbagliato a collegarmi, con chi sono collegati? Il pezzo di trasmissione sull'Inter, Marcello, che c'è di mano? Mamma mia, mamma mia. Non si può parlare dell'Inter. Siete forti, siete bravi, siete belli, siete colorati, chiedete tanto punto. Il problema è che, però, scusa Marcello, ma dopo nove scudetti consecutivi della Juve, con quel poco… Mamma mia, scusate che traversa di Colpani. Oggi Colpani è una delle giornate dove è sceso dal letto col piede giusto. Adesso la rivedrete, eravate impegnati a parlare. Tiro a giro di Colpani, traversa clamoroso. Anche questo sarebbe stato un gol spettacolare. A Martinez battuto, dopo i due assist, stava trovando anche il gol. Andrea Colpani, oggi tornato sui livelli di inizio campionato. È davvero una grande giocata. Doppio passo su Sabelli, si libera il tiro. Mancino che finisce quasi all'incrocio dei pali. A Martinez battuto, Genoa vicino al tracollo. È un gioco di gamba. Prego, prego, continuate pure. No, dicevo che con quelle briciole che hanno lasciato l'anno scorso il Napoli, due o tre volte la Juventus, e quest'anno l'Inter, c'è modo di parlare di qualche cosa, nel calcio si fanno dei paragoni, e non è la prima volta che l'ho letto già in queste settimane, è l'Inter più forte, l'Inter più bella. Secondo me no. Di questo stiamo parlando, non è questione di Inter-Chan. Però ci sta, oggettivamente, Marcello, io capisco il tifoso giuventino, il tifoso milanista, il tifoso non dell'Inter, quasi annoiato da tutti questi elogi. Io sbaglio, perché so già che l'interista, quando tu fai dei commenti di questo tipo, non è, l'unica sua risposta è stai rosicando, è quanto mi diverte vederti così, ma non è questo, è il fatto che l'Inter sia forte, l'abbiamo visto tutti, cioè non è che dobbiamo scoprirlo oggi, il problema è che Michele ne fa un paneggi, cioè lui un peana, lo metti lì, è l'araldo del Genoa, cioè si mette lì con la cetra e si mette a cantare, non lo fermi più, questa è la cosa, poi perché siano forti, che siano bravi, che meritano di stare lì, poi oggi hanno vinto nemmeno senza episodi da VAR, quindi pensa, hanno preso anche tre punti puliti, quindi certo, per carità, va tutto bene, però c'è anche un limite, la Juve che ha vinto nove scudetti consecutivi, non mi pare che io personalmente abbia mai fatto questi paneggi. Infatti Paratici e Nedved hanno voluto cambiare allenatore, Allegri disse la mia parte tecnica e i miei dirigenti mi chiedono un cambio, veniva da cinque scudetti consecutivi, io credo che Inzaghi non chiederanno di cambiare i dirigenti dell'Ivo. Sì, però tu ad esempio usi come parametro, come metodo di misura il pubblico, sentivo prima che dicevi, perché la gente si diverte talmente tanto. Me lo dicono tanti, anche i vecchi interisti mi dicono questa storia. Ma non è così, ma non è così, ma non è così, caro Michele, perché la gente va allo stadio, se vinci, poi alla fine, anche alla Juve, andavano sempre a fare gli estericordi, facevano sempre esaurito, 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 eppure non è che Allegri li deliziasse con un gioco spettacolare, capisci? 42. Però anche il Milan e la Roma fanno gli esauriti. Quando vinci, quando vinci, la gente ci va, la gente ci va, indipendentemente che sia bello, brutto, che sia bello del gioco. È nostro dovere sottolineare anche quando una squadra propone gioco, non solo se vince, e anche tu sei il primo ad essere critico con Allegri. Io stavo dicendo di Michele che diceva che, secondo lui, il fatto che andasse tanta gente allo stadio era indice del fatto che l'Inter fosse spettacolare. No, è ovvio che se tu vinci la gente va più allo stadio, però anche un fatto di cultura sportiva, per esempio in Spagna, a Madrid, ti fanno la pagnolada se giochi male e vinci. Adesso hanno fischiato la qualificazione con l'Ipsia. Esattamente, hanno fischiato la qualificazione con l'Ipsia. Noi da quel lato lì siamo un po' indietro, però mi pare che per far tornare un po' di affezione a tutti i livelli. No, no, questo campionato sta esprimendo, adesso gli ultimi due sono Calzone e De Rossi, ma al di là dei subentrati da Motta, Italiano, Gli Zaghi. Gente che fa calcio, gente che fa calcio. Insomma, questo secondo me non è un caso che per il secondo anno consecutivo, prima abbiamo fatto una piccola polemica durante la partita, perché io dicevo che oggi ci sono dei numeri in Europa, sembra essere tornati con quattro squadre in Coppa UEFA, per dire adesso Europa League e Conference League, c'è le squadre che sono terze, quarte e quinte in Serie A, vanno in Europa e aspirano a vincere la Coppa. Quindi questo è un segnale, ci sono allenatori che fanno giocando. Ma poi devi vincere, non puoi vincere, perché sull'Albodoro non c'è scritto che sei arrivato secondo, terzo, quarto, c'è scritto se vinci. L'anno scorso tre finali, iniziamo a fare la finale, tre finali perse, tre finali perse. Ma è ovvio che ne vince una, è ovvio che ne vince una, però tu per crescere, cresci facendo calcio, facendo gioco, soprattutto in Europa. Questo Paolo è stato fatto, perché non c'erano i soldi, hanno dovuto trovare le risorse, nelle idee, nella competenza, nel gioco. Ma meno male. Parto dall'immaginarmi Borrelli con la cetra, sarebbe veramente una scena. Prima ha cantato, prima ha cantato tre o quattro canzoni dalle sei alle otto, sta in forma... Terribile, terribile. E poi mi ricollego perché ogni tanto saltano fuori questi nove scudetti che vengono citati così, sì, nove scudetti, ma però il campionato non era competitivo. Adesso che l'Inter, che dall'inizio dell'anno diciamo che era la favorita, che sta giocando bene, che su 28 partite una vinta e 24, tutto quello in positivo che vogliamo, ma io vado a vedere in questo momento a 18 punti di vantaggio sulla seconda. Tutti nell'ultimo mese, Ezio. Quindi quando si parlava a suo tempo di campionati non competitivi... No, 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 fino a un mese fa eravamo punto a punto. Adesso mi sembra che più o meno siamo messi alla stessa modo. Questo senza nulla togliere a quelli che sono i meriti della squadra di Inzachi. Poi, visto che cito Inzachi, prima sentendo la conferenza stampa dei due allenatori, un mieloso incredibile, c'è uno che faceva i complimenti all'altro, Tiago Motta che ha tirato fuori il suo cuore nerazzurro, l'Inter merita, invece Inzachi fa i complimenti... Ma lo vorresti o no nella tua Juve al posto di... Ci mancava solo più Garrone e poi il libro Cuore era al completo. Tutto bello, tutto... però torno a ripetere, quei nove scudetti che... Ho capito, ma non è d'attualità parlare dei nove scudetti della Juve oggi stasera, 9 marzo del... non 1900, ma 2000... Hai visto? No, allora ti parlo delle coppe di Herrera, che vuol dire? Si parlava di Inter più forte... No, ma scusami, si parlava di storia prima lì, è l'Inter più forte della storia. Eh, ma i paragoni tra le Inter... Beh, forse no. Cioè, una squadra che vince nove scudetti di vie, che è entrata nella storia, ma non è il momento. No, noi nella Juve mi ricordo che abbiamo detto, meglio quella di Lippi, meglio quella di Trapattoni o meglio quella di Allegri e Conte, l'abbiamo fatto il gioco. E soprattutto, oltre a dire, non è il momento... Sì, ma erano campionati non competitivi. Ma chi lo sta? Ma ve lo state dicendo voi? Ma io... Ma chi l'ha detto? Ma non sembra che erano statualità sta roba dei nove scudetti della Juve. Cioè, abbiamo fatto i paragoni tra Trapattoni, tra Conte... Secondo me la Juve ha altri problemi adesso. Infatti, oggi c'entra oggi sta storia. Ricordare i nove scudetti, secondo me, è lontano un po' dai problemi, no? E malgrado tutti questi problemi, secondo i classifici... Inizio, invece mi commenti Barella che chiede scusa? E non va avanti se continua. Cioè, è un po' facile. Se io adesso mi alzo, ti tiro uno schiaffone, poi però domani ti chiamo e ti dico, no scusa, veramente ho sbagliato. No, fai il professionista serio, fin da subito, perché lì ha fatto a ridere tutti quelli che hanno visto quella scena. Non fa ridere solo una volta, Ezio. Oltre al fatto, dimmi, scusa. No, ma lui non è che fa ridere solo l'ultima volta che l'abbiamo visto rotolarsi con il Genoa. Lui si rotola ogni partita. Dovrebbe chiedere scusa a fine di ogni partita. Certo. Ma quella partita lì, Marcello... Dovrebbe andare davanti a microfinizzazione e dire, scusate, anche oggi mi sono rotolato, scusate. Ma quella partita lì... È più forte di me. Cioè, che lo fa una volta, diventa anche questa una cosa storica. Però quella partita lì, quell'episodio lì, nello specifico, ha portato un calcio di rigore che ha deciso il risultato. E mica per quello. Perché la partita, quanto è finita. Ma mica per quello, mica perché si rotolava gli ha dato il rigore. Ha sbagliato a vedere. Il rigore non c'era. Eh, ho capito, ma mica perché si rotola. Cioè, il VAR dicono, ah, siccome Barella si rotola, arbitro vieni, perché... A parte che l'hanno chiamato per cambiare la decisione e toglierlo. Siccome Zangrillo... Non so se hai sentito Zangrillo. Perché nella prima partita dice... Beh, tu chiaramente, rotolandoti in quella maniera, come se fossi stramazzato morto, induce anche altri... E tu sei d'accordo con lui, Marcello? ...a credere ancora di più che sia rigore. Tu sei d'accordo con lui? Ma io ho preferito che Zangrillo dicesse non solo quello, ma dicesse mi hanno derubato. Come l'ha detto per il Milan. Perché col Milan, Zangrillo è andato molto più diretto quando c'è stato il Mani di Pugno. Ma ti sembra credibile e competente Zangrillo? Ti sembra un dirigente credibile e competente? Ma a me non frega niente di Zangrillo, quello che vuole dire. Io dico soltanto che ho visto la partita come l'ha visto Zangrillo e secondo me Zangrillo l'altra sera aveva di che d'onde eventualmente a protestare, invece non ha protestato granché. Non ha protestato granché. Dai ragazzi, stiamo parlando, stiamo mettendo in dubbio... E mi hanno riferito a 5 a 1 quella partita. Siamo d'accordo che non c'eri l'ho detto anch'io. Paolo, a te non ti va mai bene niente, non si può parlare male di Inter, perché siccome adesso a te piace l'Inter, bisogna parlare bene di Inter. E non si può criticare Barella perché se no... E se non si può dire di Zangrillo perché se no Zangrillo... No, di Barella non ho detto niente, però secondo me il tema centrale è l'ammirazione che io ho da indipendente, l'apprezzamento per una squadra come l'Inter, che ho visto anche stasera. e che ti dico la verità, in cuor mio ho detto forse è la volta che si ferma. O pareggio perde, perché ho detto prima o poi no. E niente, invece ancora ti ha dimostrato... Secondo me, secondo te, secondo tempo non è che è stato così entusiasmante, ha giocato il Bologna... Ma però scusate, Marcello, da tifosi dell'Italia, non pensi che... Poi no, forse tu non sei nemmeno più tifosi dell'Italia, avevi detto una volta mi sembra... Ma chi? Ma di Barella che chiede scusa non è un pa... Perché io sono d'accordo, io ci mettono anche le proteste, a me dà fastidio quando protesta a prescindere sempre. Allora un giocatore che deve essere... Adesso sta girando, non so se l'hai visto sui social, un'immagine di otto giocatori dell'Inter attorno all'arbitro oggi a protestare, otto giocatori, no? No, è stato forse quando ha segnato, perché l'arbitro aveva forse non dato il gol, tutti hanno detto... Ho capito, otto giocatori però, perché il gol era regolarissimo. Ho capito, ma otto giocatori, Michi, dovrebbe andare il capitano. Sì, no, no, ho capito, quello, ma... Quello, quello, quello... Allora, c'è il fatto che... La scusa è un fatto singolare che perlomeno prende atto di un malvezzo che hanno tutti nel minaccio a Teo Hernandez che potrebbe andare al gol scioio e in quasi tutte le squadre di Bala per anni, appena lo sfiorava e volava, è comune. E come spesso mi accapita in queste vicende è che vedendo tantissimi highlights e partite dei campionati, in particolare inglese e tedesco, queste cose non le vedi, queste cose così non le vedi. C'è adesso ormai è propagata l'abitudine che appena ti sfiorano... Eh, ma è una questione latina, Luca. Ti metti la mano in faccia. Beh, non lo so se è una questione latina. Dicidi no, argentini, spagnoli, italiani... Secondo me è una questione anche di atteggiamento, perché poi ci sono dei giocatori e degli allenatori italiani che vanno in Inghilterra e che si adeguano. In Europa l'atteggiamento e nelle coppie europee è diverso. C'è il malvezza ogni volta ormai che ti sfiorano, che ti toccano delle sceneggiate senza fine. Barella è un portabandiera ma di un esercito che è molto folto e quindi dovrebbero chiedere scuse in tanti e dire piuttosto da adesso smettiamola. È uno sport di contatti, uno sport fisico, lo dicono gli allenatori e gli giocatori quando gli fa comodo dirlo e che se ne devono ricordare perché si vedono partite anche. Basta guardare il campionato primavera, adesso anche lì i ragazzi tendono a fare... L'altro giorno avete visto la scena di Montero? Delle sceneggiate. Il Montero, non l'avete visto? Neanche te Marcello? Con un giocatore della squadra... Tu l'hai visto Michele? L'ho visto su Instagram che l'hanno proposto una fratestata e quindi mi hanno curiosito. Un giocatore della squadra avversaria finisce a terra, rimessa laterale per la Juve, Montero dice non gliela ridate, non gliela ridate, continuate, continuate e la Juve poi mi sembra che sia... Quindi il discorso è molto vasto, è un discorso, tu dici latino, secondo me di cultura, di educazione civica, di sportività, di lealtà, perché quando tu fai così inganni l'arbitro, ma inganni gli avversari, inganni questi 70 mila entusiasti e pieni di gioia e anche i tuoi compagni di squadra, perché stai ottenendo qualcosa che non passa attraverso quello per cui lavori tutti i giorni in allenamento. Certo. Questo lo ripeto, vale per decine. La cosa l'idea che dici tu, Luca, è giustissimo, nel senso che io l'ho visto fare a giocatori della Juve, del Milan, del Lintutti, ormai hanno questo vezzo qui di buttarsi, però ripeto, siccome stasera stiamo parlando delle scuse di Barella, a me sembrano comiche queste scuse, cioè che facciano le scuse uno, che domenica prossima si ributta e fa di nuovo le scene. No, esatto, sarebbe bello che non lo facessero più. Lui è il capostipite proprio di tutti questi simulatori, lui subito dopo viene Lautaro, che è un altro che gli tiene molto bordeaux. Che poi la cosa comica è che ci siano tanti simulatori oggi che ci sono telecamere in ogni dove, è paradossale. E vieni sgamato, subito, oltretutto, adesso, caduto per terra, un pallone entra in rete, lui si alza ed esulta. Gol, no, 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 me lo sono inventato. Però, dicevo, oltretutto, adesso la partita viene anche trasmessa sugli schermi, sul mega schermo dello stadio. Quindi nella ripetizione, quando un giocatore simula il colpo al viso, queste cose, ma non si rende conto che viene sgamato da tutti, subito. Sarà un adrenalina, tendo a immaginare che l'adrenalina sia così alta che non lo so, non me lo so spiegare. Allora, eccoci qua. Genoa 0, Monza 2. Il Genoa fa veramente fatica a reagire, così come sta facendo fatica l'Atletico Madrid del Ciolo Simeone. Giustamente prima in conferenza stampa a Inzaghi veniva ricordato come anche oggi l'Atletico abbia perso sul campo del Cadice 2 a 0. Atletico che però, lo sappiamo, fuori casa fa una fatica in mane. Pensate che nelle ultime cinque partite fuori casa l'Atletico ne ha perse quattro. Diverso invece il rendimento in casa. Detto questo, Michele, da febbraio, da inizio febbraio l'Atletico Madrid ha vinto due partite. Si può dire che l'Inter è la grandissima favorita della sfida di mercoledì o temi molto? No, io non mi fido di Simeone perché ho sentito frasi tipiche in questi casi, lasceremo, moriremo in campo. Allora, oggi hanno giocato tutti i titolari, a parte gli indisponibili, che sono Griezmann, secondo me un po' di pretattica, alla fine ci sarà. Ok. E in difesa invece Chimenez non credo che recupererà. Ok. Quindi l'Atletico... Sì, a Spiliqueta, che però non è mai stato praticamente quasi mai titolare quest'anno. Allora, quest'anno l'Atletico Madrid è a metà del guado. Come hai descritto tu, in casa vince sempre, in campionato un pareggio tutte vittorie, ha perso solo con l'Atletico Bilbao in semifinale di Coppa del Red. Cioè, è la migliore squadra del campionato. Pure in Champions, non sapete se... Fuori casa perde quasi sempre. Sì, incredibile. Allora, qui si gioca in casa, quindi prima cosa da considerare. Seconda, loro la metteranno anche su tutti i piani. Magari se vedono che sul gioco non riescono a spondare, cercheranno. Però l'Atletico di quest'anno, secondo me, non sa più fare il fortino, non ha Godin Miranda dietro. Cioè, Witzel, l'abbiamo visto all'andata, mi ricordo c'era Paolo. Comunque è un centrocampista adattato. Più fa difensore. Di 35 anni. Di 35. Quindi loro provano a proporre gioco. Non eccellano in questa. Hanno grandi giocatori come Chris Mann, come Morata. Però quando devono fare quella difesa oltranza che li aveva contraddistinto in quei dieci anni, hanno fatto le due finali di Champions, secondo me non la sanno fare più così bene. Quindi l'Inter ha le sue possibilità. Però come è divinto l'Inter in questo momento? Eh no, però si alza l'asticella qua, Ezio. Secondo me si alza l'asticella. Con questi si alza l'asticella. E in casa loro, abbiamo detto, sono comunque... No, sono facili? Beh, eh... Tu ne sei qualcosa di corto. Di 2-0-3-0 con l'Atletico? Noi... L'Atletico Madrid è il quarto in campionato, eh? C'entendo tutte le lodi. No, no, ma che l'Inter possa passare il turno? Sì, per me le superiori all'Inter in Europa sono Real e City. Te la posso girare? Non l'Atletico. Chiaramente io devo esagerare. Poi voi siete liberi di calmirare le mie... Per me City è Real. Tu hai detto che l'Inter possa passare il turno. Io dico che l'Inter debba passare il turno. Anche il Bayern, anche il Real devono vincere la Champions. Qualcuno non la vincerà. Debba è sempre un verbo un po' particolare. Hai tutte le possibilità di farlo. L'Atletico non è decisamente quello degli anni scorsi. L'arrivo oltretutto anche lui da un momento particolare. Ci sono tutte le caratteristiche, la tavola apparecchiata perché l'Inter possa passare il turno. debba è una cosa che io vedo poco. Sarebbe un gran peccato se non lo passasse? Beh, certamente sì. L'Atletico equivale a una via di mezzo fra Milan, Bologna e le Romane di quest'anno e in Spagna quest'anno. Debba lo puoi dire quando si sorteggiano con l'Oslavia-Praga, non con l'Atletico-Madrid. Però poi, sai che le Coppe Europee eliminano il City, lo United e il Reale e poi perdono il finale con il Monaco. Certo, può davvero succedere di tutto. Paolo, guardando un po' le squadre in Champions League, si può dire che quest'anno non ce n'è una della quale possiamo pensare, come abbiamo fatto spesso e volentieri negli anni scorsi, questa pare ingiocabile? In relazione all'Inter. Per adesso no. E anche il City? No, no. Ingiocabile? Ma il City viene da un triplete quest'anno. No, no, è chiaro, però io dico ingiocabile. Potenzialmente, però lui dice, vedendo le partite, per adesso non una proprio dominante in assoluto, però secondo me dal prossimo turno magari, che poi è sempre un po' questo, il mese in cui tu fai i conti per il finale di stagione. Posso dirti, scusa, oggi Bayer Monaco-Mainz 8-1, quindi forse stanno un attimo… Si sono ripresi. Non lo so, non lo so perché il Mainz non è il barciano di guardia, però… Sì, sì, beh, allora ha fatto bene la Lazio. Per venire a… Sì, la Lazio rispetto al Mainz. No, no, sì, no, però secondo me no, cioè in chiave Inter tu intendevi, non in assoluto. Certo, in chiave Inter. No, secondo me non c'è una squadra che tu dici la mette sotto a prescindere. Poi ovviamente sperando che non ci deluda l'appuntamento di mercoledì, questo è ovvio. Certo, certo. Però le premesse sono buone, ecco, penso anch'io sull'Atletico, quello che diceva Michele, ma l'ha detto Simeone lo scorso anno, insomma un periodo di transizione per l'Atletico, perché Simeone ha detto ho capito che il calcio sta cambiando, non avremmo più potuto fare molta strada continuando a giocare nel modo in cui giocavamo, cioè in modo molto conservativo. Poi è cambiato anche i giocatori, però adesso sembra proprio una squadra in transizione dove non ha un'identità precisa. Cioè, vabbè, del resto anche se parliamo dell'Inter, un'identità precisa e netta è uscita quest'anno, no? Vabbè. E quindi secondo me a livello di tempistica è chiaro che devi dire che l'Inter è favorita, proprio per questa fotografia che stiamo facendo del momento delle due squadre. Paolo, c'è un aspetto dell'Atletico che si gioca anche il Mondiale per club, perché in segue, anzi, a sette adesso sono diventati sei punti di vantaggio sul Barcellona, e il Barcellona per esempio può passare col Napoli, se loro escono sono 50-60 milioni quell'aspetto lì. È certo. Quindi un po' come Napoli-Juve, in Spagna si sta giocando, Atletico-Barcellona. Atletico-Barcellona. Che poi, hai capito Ezio, adesso non vorrei non farti dormire stanotte, però qua, uno pensa alla seconda stella del lito, seconda stella del lito, eh? Cioè questi finisci che vanno avanti pure in Champions League e ti fanno... Beh però la Juve è il Mondiale per club lo può fare. Eh sì, sì, Napoli esce con Barcellona e fatta. Al momento, al momento sì. No, credo che dopo la tanta paura da tifoso bianconero che hai vissuto l'anno scorso con la finale di Istanbul, cioè non vorrei che anche quest'anno l'Inter, Marcello e Ezio vi faccia vivere delle brutte notti europee. No, no, no. Non so come la vedete. Sicuramente è una squadra che se la può giocare, poi però che ci siano delle corazzate, prima hai citato l'ultimo risultato del Bayern, l'abbiamo visto anche contro la Lazio, sono squadre, il City, il City, e poi prima o poi il Paris Saint-Germain riuscirà a... Perché prima si parlava del... Quello là davanti l'altro giorno ha fatto la Playstation, eh? Ma si diceva giustamente, non Luca, chi in questi anni avrebbe dovuto vincere è il Paris. È l'edizione meno pericolosa degli ultimi dieci anni, magari poi va in finale e vince, questo non lo so, però non mi sembra onestamente. Ha passato i gironi per un rigore inventato all'ultima giornata, al 93esimo, poi per carità, magari dalla nebbia di Belgrado ne sono successe di cose, però mi pare onestamente che il Paris Saint-Germain di quest'anno sia inferiore a Inter, City, Real Madrid, sicuramente anche Bayern. Anche se si è divorato in un sol boccone la Real Sociedad che era arrivata davanti all'Inter in Girona. Ma non ci sono dubbi, cioè lo Slavia Praga ha vinto il girone con la Roma, ha perso una sola partita con la Roma. Le coppe europee sono un animale molto difficile da domare, però solo per andare dietro al ragionamento del Paris Saint-Germain mi stupirebbe che proprio questi... perché non è neanche vero che senza tutti quei campioni, quei mostri, abbia più un'idea di squadra. Io l'ho visto diverse volte... Non ti ha convinto? No, no, no. Il Real Madrid in alcune partite, sì, il Bayern in alcune partite, perché il Bayern è sulle montagne russe quest'anno. Il City, il Liverpool ultimamente, ma il Paris Saint-Germain no. Non ti convinto. Dopodiché, sai... Però quello là davanti che quando decide di cambiare... Quando decide di cambiare marcia è qualcosa di devastante. A San Sebastien l'ha vinta da solo, ha messo il turbo, due velocità rispetto agli altri, ha vinta da solo. Marcello, l'Inter, mercoledì a Madrid, secondo te la svanga facile o rischia? Facile no, però svanga. Passa, passa, passa sicuro. Io penso e temo che l'Inter riesca a fare la cavalcata dell'anno scorso, perché quest'anno è più forte dell'anno scorso. L'anno scorso è stata anche agevolata da quel girone Coppa Italia in cui si è trovato, no? Milan, Napoli, l'unico, il Benfica, che però Benfica non si è ancora rialzato dall'anno scorso. Sì, vero. Anche quest'anno sta facendo molto male. Quindi è stato abbastanza facilitato. Quest'anno, adesso vediamo come andrà il percorso, però secondo me, essendo più forte, può veramente ambire addirittura andarsela a giocare, sta Champions League in finale e provare a vincere. Sì, mi darebbe fastidio, ma se una squadra è più forte e merita di vincere, che vinca. Non è che devo guardarla sempre da tifoso, la guardo anche con lo spirito del giornalista, con lo spirito obiettivo di quello che comunque se ama il calcio e vedi una squadra che gioca bene, che merita, è giusto che vinca. E poi non ci dà fastidio per la Coppa del Mondo, soprattutto, a differenza… No, la Coppa del Mondo, infatti no. L'unica cosa è che io tifo Barcellona in maniera veramente sfegatata, perché francamente mi romperebbe non andare per club. Quello sì. Allora, parliamo tra poco.